Ciao ragazzi, oggi farò un video un po' differente, voglio parlare dell'importanza di sapere ascoltare, sia che si tratta di musica, sia che si tratta di vita di tutti i giorni. Mi sembra che qui tutti un po' abbiamo perso la condizione di sapere ascoltare l'altro, sapere ascoltare la musica. Quando noi leggiamo un libro, che cosa facciamo? Ci mettiamo comodi, in genere o prima di andare a dormire, oppure in un momento libero della giornata, leggiamo, ci immedesimiamo in quel libro e se qualcuno prova a dissubarci minimamente, gli lanciamo dietro qualcosa. Questo perché? Perché abbiamo preso un po' di tempo libero, ci siamo messi a leggere il nostro libro preferito e stiamo andando a fondo. Quindi si legge con molta attenzione, si prende quel tempo libero e si legge il libro. Perché con la musica invece, con l'avvento poi anche dei registratori, eccetera, la musica ormai la si ascolta quasi sempre come sottofondo, che sia musica da cd, che sia musica della banda musicale per una manifestazione che fa da sottofondo, che sia la musica di sottofondo, una colonna sonora di un film. Perché la musica passa in secondo piano e viene messo in primo piano invece l'aspetto visivo? Cioè la musica sembra qualcosa che riempie, ma mai il soggetto principale. Perché non ci si prende un po' di tempo per ascoltare veramente qualcosa? Perché quando leggiamo ci prendiamo il tempo, mentre con la musica invece ce l'ascoltiamo così? Cioè questo tipo di ascolto non attento non può mai farti capire realmente il significato di quella musica. Come se tu leggessi, a volte capita, a volte uno va sopra il pensiero, uno legge un libro, legge una pagina, però intanto col pensiero è altrove, però intanto leggi, continua a leggere, va avanti, arriva alla fine della pagina e dice ma aspetta, ma io che cosa ho letto? Quindi uno ritorna indietro e se la rilegge con calma. La stessa cosa vale per la musica, tu non puoi pensare di sentire la musica senza ascoltare, che sono due cose differenti. Quindi, e altra cosa brutta della musica, almeno della musica suonata dal vivo, è che tu non puoi permetterti l'uso di distratti per dire aspetta adesso lo metto indietro, la riascolto. Se leggendo un libro questo è possibile, con la musica ovviamente non è possibile. Quindi la musica ha bisogno di maggiore attenzione per essere codificata. Ovviamente noi quando leggiamo un libro, leggiamo delle parole e le associamo a delle immagini all'interno della nostra mente. La stessa cosa deve succedere quando ascoltiamo un brano, non è che noi dobbiamo solo sentire le note, ma dobbiamo sentire le note all'interno di un certo ritmo, all'interno di un tempo che si sviluppa sempre, quindi dobbiamo essere molto dinamici, ma soprattutto anche qui dobbiamo procedere per associazioni. Alla fine la musica, vivere la musica in questo modo, sentire la musica in questo modo è una delle esperienze più belle di tutte e forse questa cosa per via di varissimi fattori si sta perdendo. Ovviamente noi stiamo diventando un po' insensibili a tutti i suoni che ci vengono emessi perché se a differenza degli occhi, quando non vogliamo più vedere, basta chiuderli, l'orecchio è sempre attivo 24 ore su 24, non c'è qualcosa, un pulsante che dice c'è basta non voglio più sentire nulla, no, sarebbe una figata, ma purtroppo qualcuno non ci ha dotato di questo pulsante e quindi siamo un po' fregati sotto questo senso. Vedi per esempio adesso sta passando un aereo e io che abito sotto Malpessa ci faccio solo caso quando faccio i video, per il resto della giornata non è che ci faccio caso perché ormai abitando da 7 anni qui con l'aeroporto sopra casa mia, cioè gli aerei che passano non ci faccio neanche più caso, quando viene gente a casa mia mi dice ma come fai tu a sopportare tutti a queste aerei qui? Eh faccio, non ci faccio più caso, invece quando faccio i video me ne accorgo perché appunto so che c'è un'interferenza che disturba il video. Funziona così, quindi l'orecchio purtroppo non può essere spento e quindi dato che non può essere spento continua a ricevere informazioni, suoni, gente che ci parla, televisione accesa, radio accesa e tutte queste informazioni poi vengono a volte anche perse perché mi rendo conto che magari parlando con qualcuno quando tu ti parli tu pensi a altre cose quindi si sta diventando un po' insensibile ai suoni che ci vengono proposti poi a parte che la musica adesso viene utilizzata appunto un po' come dicevo prima la si ascolta, sì vabbè va bene ascoltare musica in macchina, ci fa compagnia ma non pensiamo che quello sia un ascolto attivo, un ascolto che faccia bene anche per esempio tutte le pubblicità vengono associate a della musica ma in realtà è una pubblicità muta, dopo quanti secondi cambieresti canale? mentre con la musica di sottofondo invece tu rimani lì a guardartela c'è però una pubblicità, per esempio una pubblicità fatta in America da un'azienda American Standard aveva fatto questa pubblicità su dei bici c'è questo idralico tutto affannato che si prepara ad entrare in bagno, apre la porta del bagno e fa vedere come con questo magico prodotto di questa azienda lui riesce a risolvere ogni problema del gabinetto pensate un po' voi questa scena a che musica era stata associata uno dice ma è una musica divertente no? che ne so, è The Entertainment, non so come neanche si pronuncia no invece no, è stato associato con la lagrimosa del Requiem di Mozart una pubblicità di sanitari forse non è stata la scelta più corretta forse è stata proprio una scelta di marketing per far discutere di quel prodotto anche minchino al genio che ha fatto questa cosa qui però non va bene infatti sono arrivate molte email di protesta a questa azienda da parte di ascoltatori che sono stati offesi da questa cosa qui quindi hanno scritto un sacco di email di protesta a questa azienda e di conseguenza l'azienda ha risposto in questo modo a delle email di lettore chiedo scusa solo in un secondo momento ci siamo resi conto della morale religiosa di questo brano perciò abbiamo deciso di sostituire questo sottofondo con un altro brano della pubblicità e ci mettiamo il Townhouser di Wagner ora io non credo che questa azienda abbia compreso realmente il lato l'offesa da parte degli ascoltatori non è perché se si trattava di un brano religioso quindi la blasfemia cioè non c'era solo quello c'era solo che è stata utilizzata una grandissima opera per fare una pubblicità di sanitari cioè era quello il vero problema a parte tutto il lato blasfemo eccetera quindi si sta perdendo veramente ogni che ne so qualsiasi cosa sta venendo persa con questi grandissimi mezzi di comunicazione ma non parlo solo di ascoltare la musica come dicevo prima si tratta anche di ascoltare le persone quante volte veramente non ascoltiamo più le persone soprattutto quelle che ci circondano spesso furia di averle sempre in casa uno ti parla l'altro neanche più ci fa caso in realtà bisogna sempre ascoltare perché possiamo sempre capire qualcosa di nuovo per esempio sia nelle relazioni sia che si tratta di un'amicizia ma che se si tratta di un rapporto d'amore soprattutto nei rapporti lunghi un anno o due anni uno pensa di conoscere tutto sull'altra persona quindi si adagia e ogni cosa che dice perde di valore in realtà no bisogna sempre ascoltare perché veramente a volte si può riscoprire un mondo nuovo nell'altra persona solo ponendosi nella condizione di dire basta io oggi ascolto quello che tu hai da dire è veramente interessantissima questa cosa qui perché puoi scoprire tantissime cose che prima ci sono sfuggite cioè c'è una differenza tra sentire e ascoltare capito? quindi c'è una differenza anche tra vedere e osservare ci sono tutti quei vari aspetti che noi spesso perdiamo quindi impariamo ad ascoltare anziché criticare impariamo prima ad ascoltare fare bene le nostre considerazioni e poi lanciare dei suggerimenti dei consigli non subito criticare ed attaccare impariamo ad ascoltare quello che ci vogliono dire le altre persone poi semmai possiamo dire la nostra però prima dobbiamo veramente capire quell'altra persona ma quante volte anche su youtube una persona vede il video di uno boom l'attacca perché quel video non gli è piaciuto impara a conoscere bene prima quella persona la sua diciamo filosofia di vita come la pensa e poi vedi che magari uno va subito ad attaccare una persona fa basta mi senti paticissima eccetera e poi si svela che due giorni dopo si conoscono meglio e diventano migliori amici quindi impara a conoscere prima una persona prima di giudicarla così vale veramente dappertutto ora faccio l'esempio di youtube che è l'esempio credo più eclatante prendo un video di un youtuber che parla tipo questo verrà veramente criticatissimo troverai un sacco di non mi piace gente che diceva che cazzo stai dicendo io dico quello che penso puoi rispettarlo puoi non rispettarlo se lo rispetti mi fa piacere magari mi scrivi che sei d'accordo se non lo rispetti non è che mi mandi a quel paese mi dici la tua sempre in maniera educata magari non fa mai male e poi mi dici perché non sei d'accordo a volte le offese così gratuite io sono superiore di te ok tu sei superiore di me ma perché mi vuoi spiegare quindi questo serve anche a noi per poter migliorare la nostra qualità di video in questo caso se tratta di youtube ma che anche nella vita cioè quando ricevi una critica dal tuo capo ah questo lavoro è fatto di merda perché? dimmi perché in che modo posso migliorarlo? quindi ascoltare saper comunicare nonostante tutti i nuovi mezzi di comunicazione internet, televisione eccetera credo che più si aprono nuovi mezzi di comunicazione meno noi fra esseri umani sappiamo comunicare pensare che San Francesco parlava anche con gli uccelli vabbè ragazzi dopo questa piccola riflessione io scappo a mangiare che poi oggi devo andare in conservatorio ciao a tutti ciao ciao a tutti